Ciao a tutti! Ebbene sì, l'ultimo video risale il 24 gennaio 2016, più di due mesi fa. Mi scudo tantissimo per l'accaduto, ma davvero io e Giulia abbiamo avuto questi mesi pieni pieni di pensieri per la testa, scuola, lavoro e sport. E quindi ci è risultato davvero impossibile registrare i video. Poi purtroppo, come potete vedere, sono tornata, ma sono tornata sola, perché Giulia ci ha tra virgolette abbandonati perché... Per lavoro, problemi di... perché non riuscivano più a vengastarci con gli orari per... Purtroppo Giulia ci ha abbandonati, purtroppo Giulia ci ha abbandonati, perché è veramente un'ora. Detto ciò, da oggi inizierà un nuovo percorso tra me e voi. Spero che mi incoraggerete e sosterrete nel proseguimento di questo canale, perché è davvero una cosa che mi appassiona e a cui tengo davvero davvero tanto. Cercherò di caricare almeno un video a settimana, promesso, e cercando anche di variare un po' stile, anche se mi risulterà un pochino difficile, perché io ho davvero zero zero fantasia. Quindi nulla, questo era un video proprio breve 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 per sintetizzare un attimo la situazione e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Quindi niente, ciao ragazzi!